I sacerdoti devono essere mediatori dell'amore di Dio, non intermediari che pensano al proprio interesse, tentati dalla rigidità verso i fedeli e dalla mondanità che li trasforma in funzionari e li porta ad essere ridicoli. Lo ha sottolineato con forza Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, prendendo spunto dalle parole di Gesù, che nel Vangelo di oggi sottolinea l'insoddisfazione del popolo mai contento. Anche oggi ha osservato ci sono cristiani insoddisfatti che non riescono a capire cosa il Signore ci ha insegnato, quindi il Papa si è soffermato sui preti insoddisfatti che fanno tanto male, vivono insoddisfatti cercando sempre nuovi progetti, perché il loro cuore è lontano dalla logica di Gesù. Il sacerdote autentico, ha spiegato, è un mediatore molto vicino al suo popolo, l'intermediario invece fa il suo lavoro ma poi ne prende un altro, sempre come funzionario, non sa cosa significa sporcarsi le mani in mezzo alla realtà. Ed è per questo, ha ribadito Papa Francesco, che quando il sacerdote cambia da mediatore intermediario non è felice, è triste e cerca un po' di felicità nel farsi vedere, nel far sentire l'autorità. Ma anche per farsi importanti, i sacerdoti intermediari prendono il cammino della rigidità tante volte, staccati dalla gente e non sanno cosa è il dolore umano. perdono quello che avevano imparato a casa sua con il lavoro del papà, della mamma, del nonno, della nonna, dei fratelli, perdono quello. sono i ricidi, i ricidi che caricano sui fedeli tante cose che loro non portano, così diceva Gesù agli intermediari del suo tempo. la ricidità frusta in mano col popolo di Dio, questo non si può, questo non si può, qua. E tanta gente che si avvicina, cercando un po' di consolazione, un po' di comprensione, viene cacciata via con questa rigidità.